Salve a tutti gente e benvenuti in un nuovissimo video di GTA, questa volta non siamo con Franco come avrete visto ma siamo con Michael perché come avrete visto anche la copertina questa volta andiamo a svelare alcuni piccoli misteri che si nascondono praticamente dentro la casa di Michael possiamo direi di iniziare con alcune porte, in realtà tutti i segreti riguardano alcune porte che possiamo trovare dentro la casa di Michael al primo piano sicuramente avrete tutti già esplorato la zona, insomma tutta la casa, al primo piano non c'è praticamente nessun segreto da mostrare almeno al primo, scusate al pieno terra volevo dire, mentre invece se saliamo possiamo trovare le varie stanze tipo della figlia di Michael qua abbiamo invece la stanza del figlio che adesso non è a casa e uno dei segreti della casa del figlio riguarda anche questa porta che non si apre uno dice ma che cosa ci sarà dietro quella porta? Inoltre un'altra porta che non si può aprire è questa qui questa qui è un'altra porta che tutti quanti dicono ma forse aggiungeranno con un TLC e cose del genere non si può aprire quindi siamo già a tre porte e questa è l'ultima porta ragazzi che non si può aprire anche questa porta non si può aprire, sicuramente moltissimi di voi avranno provato ad aprire alcune se non tutte almeno alcune di queste porte sicuramente avrete tipo qualche dubbio tipo penserete ma cosa ci sarà dietro? Ebbene con le mod noi possiamo andare a vedere ma prima di andare a vedere subito quelle cose lì vi voglio mostrare anche un'altra piccola cosetta che Rockstar ha aggiustato però adesso vi faccio vedere per esempio ok ragazzi seguitemi un attimo perché se adesso io sparo qui come vedete vedete che fa i buchi lascia il segno sul muro però questa cosa è stata pacciata, in realtà prima non era così infatti cosa succedeva? Succedeva che quando tu sparavi qua in mezzo vi faccio vedere magari una clip se riesco a trovarla da internet qualcuno magari che l'ha fatto vedere quando è in passato praticamente si vedeva che qualcuno sparava, quando si sparava alla porta intanto per esempio se io sparo qua adesso esce sia al centro che intorno esce diciamo il fumo, il pezzo di cemento insomma che si stacca e fa il fumo mentre invece prima quando si sparava al centro intanto non venivano fuori i colpi cioè non lasciava il segno e usciva tipo del legno sembrava l'effetto legno, tipo se io sparassi sul legno farebbe circa quell'effetto lì mentre... e inoltre un'altra cosa fondamentale è che tipo quando sparavate sempre su quella porta lì ad un certo punto però cominciavano ad apparire i segni e quindi andavate a delineare diciamo il contorno di una porta che sarebbe dovuto essere lì ma che non c'era quindi già questa è una cosa strana quindi molti hanno pensato che fosse una sorta di cosa segreta per entrare diciamo nel... in un bunker cioè non in un bunker, in una tipo una stanza segreta che magari volevano aggiungere le rapine anche per il single player e altre cose del genere però adesso noi andiamo a vedere che dall'altra parte in realtà non c'è nulla quindi o la porta è stata inserita lì per sbaglio oppure insomma quella zona lì si vede che o è stata creata per sbaglio oppure non si sa che magari forse appunto come ho detto potrebbe essere che fosse diciamo in programmazione un TLC che poi non è uscito perché magari ha avuto successo l'online hanno deciso di fare solo il TLC per online comunque adesso andiamo a vedere cosa c'è dietro questo muro che forse probabilmente avranno tolto nel caso ci fosse stato qualcosa avremmo dovuto guardare prima della patch però guardiamo lo stesso in questo caso ok ragazzi mi sono messo con la telecamera con la quale posso passare attraverso i muri e quando passo al suo interno come vedete non c'è praticamente nulla non c'è praticamente nulla entro praticamente qua nella casa e in molti si erano anche chiesti del perché per esempio il salotto finisse qui e qua ci fosse tutta una zona in cui si diciamo vuota e dall'altra parte del muro sarebbe dovuto esserci qualcosa infatti questo piccolo corridoio si vede che sarebbe dovuto diciamo avrebbe dovuto contenere qualcosa magari si entrava e c'erano delle scale che ci portavano giù ma a quanto pare Rockstar ha deciso di togliere questa cosa adesso andiamo a vedere subito un'altra stanza un altro segreto che è la porta che sta dietro non dietro, la porta che sta nel corridoio praticamente adesso entriamo, saliamo ok appena salite le scale davanti ci c'è la stanza della ragazza, della figlia di Michael però subito sulla sinistra troverete questa porta che non possiamo passarci attraverso insomma non è che non possiamo non si apre diciamo non si apre e tutti quanti si sono chiesti cosa ci fosse dietro questa porta anche in questo caso in tantissimi hanno ipotizzato che fosse una sorta di diciamo appunto anche in questo caso in molti hanno pensato che fosse una sorta diciamo di posto in cui Rockstar voleva sempre inserire una nuova stanza per i DLC magari sempre qua voleva invece inserire una stanza per fare le rapine offline invece che in quella zona lì che magari era un'altra cosa magari era solo un corridoio oppure semplicemente molti hanno ipotizzato che questo fosse semplicemente una sorta di porta diciamo così a caso in cui volevano inserire una nuova stanza magari un nuovo intero personaggio ma che nessuno ha mai fatto però se noi adesso entriamo dentro entriamo dentro possiamo vedere che in realtà dopo la porta non c'è niente non c'è assolutamente niente di niente ma molta gente non si è resa qua infatti adesso vi faccio vedere cosa c'è fuori dall'altra parte perché dall'altra parte si vede esattamente diciamo una stanza che sta esattamente nella posizione di quella porta infatti se noi adesso facciamo tutto il giro facciamo tutto il giro qua intorno no non di qua vabbè passa di qua eh no ti sei bagnato ok se noi facciamo tutto il giro da questa parte come vedete lì possiamo vedere una finestra aperta e c'è una stanza effettivamente dall'altra parte infatti se noi mettiamo l'altra telecamera andiamo qua possiamo vedere che c'è una stanza effettivamente nonostante quella porta non porti a nulla ma questo perché in realtà la stanza non è esattamente collegata alla porta infatti la porta come vedete è qua però se noi entriamo attraverso la porta prima non c'è niente ma se ci muoviamo verso la finestra entriamo in una sorta di stanza che non possiamo esattamente vedere a meno che non siamo esattamente contro il muro non possiamo vederla questa stanza quindi è abbastanza difficile diciamo da da vedere infatti qualcuno se ne è accorto appunto per sbaglio mentre stava andando in giro nella stanza e ha visto che c'è appunto questa strana stanza vuota che c'ha le texture dentro però è completamente vuota e sembra che selva soltanto a diciamo a fare da buco per vedere qualcosa ma insomma se andiamo un attimo a pensarci però non avevano bisogno di un'intera stanza per fare una cosa del genere potevano semplicemente diciamo mettere un'immagine o qualcosa del genere come fanno con qualsiasi altra cosa per esempio i negozi possiamo vedere qua sono immagini queste potevano fare la stessa cosa perché nessuno l'avrebbe mai notata qui anche perché a malapena si vede invece magari quell'altra cosa si vede anche di più quindi cosa hanno pensato hanno pensato appunto che fosse un'altra cosa ma che magari ci sarebbe dovuto essere una sorta di passaggio da qua che portava dalla porta a quella stanza che sarebbe magari una stanza che sarebbe dovuta servire a qualcosa se non appunto come ho detto prima a magari era un altro figlio di Michael in molti hanno pensato che magari fosse una stanza in cui poteva stare temporaneamente durante la storia Franklin che veniva appunto a casa di Michael a imparare quelle cose lì quindi insomma il segreto di questa porta l'abbiamo svelato ma prima di andare a svelare l'ultimo segreto ossia quello che si nasconde dietro questa porta vi faccio notare un'altra cosa un'altra piccola cosa che non so se si possa chiamare segreto e si trova esattamente sopra di noi qua eccolo qua lo vedete questa finestra diciamo questa finestra possiamo vedere che c'è il palazzo là possiamo vedere il palazzo il camino ha un altro palazzo ed è diciamo un buco sopra per far entrare un po' di luce però non vi sembra un po' fake perché insomma un po' lo sembra fake infatti se noi adesso cambiamo telecamera in realtà in realtà la finestra non esiste in che senso non esiste aspettate perché esiste nel senso che da dentro la possiamo vedere però noi appena usciamo appena usciamo vediamo che sopra non c'è niente come potete vedere ragazzi non c'è praticamente niente qua insomma c'è la casa normale e basta non c'è assolutamente nient'altro mentre invece se noi adesso per esempio adesso penetriamo attraverso il tetto possiamo vedere ho sbagliato un po' di qua devo andare ok in questa zona qui dovrebbe essere sì ok se adesso noi qua penetriamo attraverso il tetto possiamo vedere che c'è questa strana l'ho persa questa strana struttura questa finestra che però non esiste infatti se andiamo di qua non esiste e si vede che la rockstar ha pensato vabbè dai inseriamoci nella finestra chi se ne frega di metterla fuori tanto nessuno se ne accorgerà o semplicemente volevano creare una sorta di luce diciamo quasi diciamo che la luce naturale dall'esterno non gli piaceva da come entrava quindi hanno creato una sorta una sorta di luce diversa insomma oppure avevano problemi con l'engine a fare una cosa del genere si vede che in qualche modo hanno preferito piuttosto fare una cosa finta dentro l'artificiale piuttosto che fare entrare veramente la luce esterna e neanche si sono degnati appunto di fare tipo una sorta di effetto che magari ci fosse c'è anche questa strana finestra all'esterno che come abbiamo visto non esiste all'esterno ok dopo aver visto questa cosetta ragazzi guardiamo l'ultima cosa ossia l'ultimo segreto nella casa di Frankie non nella casa di Frankie ragazzi ho sbagliato no sono andato nel bagno nella casa di Michael volevo dire non nella casa di Frankie qua abbiamo ah si ragazzi l'ultimo segreto poi attraverso l'ultimo segreto vedremo che sveleremo anche il segreto che c'è nella casa di non nella casa nella stanza del figlio di Michael ok ragazzi quindi adesso entriamo attraverso questa porta subito senza perdere tempo oh cosa è successo ah ok entriamo subito in questa porta senza perdere tempo usando la telecamera e voilà ecco qua ragazzi questa porta doveva portare praticamente a questo piccolo balcone questo piccolo corridoio balcone quindi qua abbiamo la finestra entriamo ed è questa finestra qua qua abbiamo la porta e l'uscita dopo un piccolo pezzo di muro che non è neanche troppo lunga che probabilmente dove esserci magari un piccolo pezzo di scala o un altro pezzo di corridoio doveva portarci a questa sorta di balcone che possiamo vedere da fuori davanti alla casa di Michael una volta arrivati qua però possiamo vedere che da questa parte c'è una sorta di finestra e guarda caso di che finestra si tratta si tratta esattamente della finestra che ci porta dentro la stanza di del figlio del figlio di Michael quindi abbiamo svelato insomma il mistero di da dove esce questa questa diciamo questa finestra che dovrebbe essere anche una finestra una finestra porta in realtà si vede che in qualche modo avevano pensato a una sorta di diciamo di di giro nel senso che dalla stanza di Michael potevi andare sul qua sul davanzale e poi da quello potevi entrare dentro la casa del figlio che magari aveva la finestra aperta si vede che dopo per il design o per altri motivi hanno deciso di non fare una cosa del genere e insomma quindi ecco svelato il mistero di questa cosa qui mi sono perso eccomi qua torniamo con Michael e tante scarpe c'ha la moglie di Michael minchia tanti vestiti anche ok ragazzi adesso però vediamo anche l'ultima cosa cioè l'ultima stanza l'ultima volevo dire porta che dovrebbe essere questa qui questa porta qui che in realtà forse è solo una sorta di finto armadio dovrebbe essere una sorta di finto armadio è esploso qualcosa ho sentito un'esplosione ragazzi ok comunque ragazzi se entriamo qua dentro praticamente non ci porta da nessuna parte perché la porta è praticamente contro il muro infatti come vedete qua è dove eravamo prima se noi però passiamo attraverso il muro qua arriviamo alla stanza del figlio di Michael e c'è la porta quindi o questa porta è stata sbarrata diciamo esisteva dentro la casa nella costruzione di Michael ed è praticamente stata sbarrata mettendoci questo armadio davanti oppure semplicemente è stata messa lì per bellezza perché in realtà poi questa porta non ha proprio un gran senso a essere messa qui a meno che appunto non fosse una sorta di armadio che magari in qualche modo hanno deciso di togliere tra l'altro infatti come potete vedere qua intorno sembra un po' che fosse stata lavorata sembra un po' diciamo sporco che magari volevano intendere proprio che è stata una porta che è stata magari chiusa completamente prima c'era un passaggio hanno deciso di chiuderla e metterci un armadio dall'altra parte comunque ragazzi queste erano le porte segrete nella casa di Michael siamo andati a vederle tutte e dovrei diciamo con questo video dovrei aver diciamo completato finito fatto vedere tutti i segreti della casa di Michael senza averne tralasciato nessuno almeno credo perché mi sembra che non ci siano più altre stanze vabbè questo ragazzi infatti ragazzi vi dicevo questo qua per esempio è una sorta di armadio dentro il muro mentre ed è anche più grande mentre invece quella lì sembra proprio una porta questa qui nella casa di nella casa mi viene sempre da dire casa nella stanza del figlio sembra proprio una porta più che un armadio perché insomma è più piccola insomma è così e niente ragazzi quindi questi erano i segreti le cose le stranezze della casa di Michael come abbiamo visto lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto guardatevi anche altri video in cui magari abbiamo anche fatto una top in cui vedete diciamo alcune delle piccole cose che non sapevi di GTA che magari ve le linko adesso a schermo iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto attivate la campanellina lasciate un mi piace e ci vediamo ad un prossimo video magari fatemi sapere che altri segreti volete sapere di GTA ciao ciao